Signori buongiorno, stamattina ho 4-5 ore libere e ho deciso di farmi una pescatina. Sono da solo, sinceramente avevo programmato di farmi una pescata bolognese in scogliera con i bigattini, ma la giornata è tanto ventosa e quindi mi ha fatto desistere. E ho deciso di andare in uno spot che solitamente è un po' più riparato e tentare a Cefali. Ho comprato una busta di pamboletto ora in supermercato per strada, un po' di pastura non me la faccio mai mancare e ci proviamo. Ho montato la 6 metri con un galleggiante fisso, torpilla secca e due ami sfalsati di una decina di centimetri. Sono quasi le 10, penso per le 11 di essere in pesca e vediamo un po' se oggi qualche Cefalo ci provisca. La giornata è soleggiata ma come hai detto c'è un bel po' di vento. Vediamo se riusciamo, dai, ci aggiorniamo sullo spot. Eccoci qua, siamo arrivati sullo spot, appena messo il panchetto, un po' di pane in ammollo, ora inizio a preparare la canna e facciamo qualche fetta di pan bauletto. L'acqua sembra buona, qui il vento non dà fastidio. Dobbiamo vedere solo se qualche Cefalo vuole partecipare, dai. Cefalo vuole partecipare, dai, ci aggiorniamo sullo spot. Come montatura, galleggiante fisso da 3 grammi, sto utilizzando la 6 metri. Poi semplicemente, torpilla secca e qualche pallino a tarare. È un terminale dello 0,12, più o meno lungo 60 centimetri, con doppio amo più o meno 10-15 centimetri spalsati. Sondiamo, ovviamente, in modo più o meno che l'amo più in basso sfiori il foglio. Ecco qua, ora c'è il galleggiante che più o meno tende ad uscire la punta da fuori. Abbiamo trovato il foglio. Abbiamo trovato il foglio. Abbiamo trovato il foglio. Abbiamo trovato il foglio. non è tanto grande però non è male sono cinque minuti che sto in pesca eccolo qua eccolo qua il primo è arrivato che è successo un primo cefalotto è arrivato subito vediamo se ne riusciamo a mettere qualcuno di decente sto mangiando ma da piccole toccatine eccolo ferrato l'ho perso l'ho perso più o meno era della dimensione di quello di prima a sensazione ovviamente riproviamoci sono messi sti cosi sotto non fanno pescare più una bella coppia ora non sono riusciti a accendere la telecamera prima ma sono piccoli mangiano o non si ferrano ma sono sti cosi piccolini speriamo che arriva qualcosa più decente altro cefalotto ma sono proprio in miniatura sarà il quindicesimo che prendi non se ne può più i grandi dove stanno dove stanno è afferrato un cefalotto più discreto in forma vediamo quest'ultimo retto se crescono un po di tagge fino a mo solo roba proprio minuscola ecco c'è scala finita non è andata benissimo tanti cefalotti c'era una mancianza incredibile ma erano tutti piccoli speravo in qualcosa di meglio poi dopo cinque minuti già ne aveva preso un paio carini ma non hanno voluto partecipare e questa è stata la pescata di oggi nulla di che piccoli cinque sei l'ho ributtati giusto qualcuno lo metto nella vasca ecco la vasca ma mi si è rotto la vasca grande ne sto cercando un'altra spero di trovarla presto ancora un poichino ora siamo già amici che mi hanno giusto oh 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 dai salta no dobbiamo acciudere se dicevo siamo già amici che mi hanno giusto e se io rifaccio io a prendere sta facendo il tramonto è ora di andare via come sempre se vi fa piacere iscrivetevi e ci vediamo alla prossima ciao ciao